È un piacere oggi essere ad Urban Promo Green, questo è il secondo anno che Federlegna Redo rinnova la collaborazione con INU, Istituto Nazionale Urbanistica. Oggi nel mio intervento ho parlato di nuove norme tecniche per le costruzioni e di come il legno è inquadrato nel testo legislativo. È interessante vedere che piano piano il materiale legno si sta avvicinando al comparto normativo europeo di riferimento, quindi un quadro normativo che progressivamente quello nazionale si avvicina al contesto europeo e dall'altro lato diviene fondamentale sia per quanto riguarda l'industria di settore sia per quanto riguarda il professionista tutte le indicazioni contenute nel capitolo 8 al fine di consentire un maggior dialogo tra il legno e l'esistente in un processo di miglioramento e adeguamento sismico.